Chiamo in scena subito il personaggio che ormai è diventato quasi la mascotte del premio, Luca Cocco da Ardauli in provincia di Unistano. Ciao Luca, grazie a te per avermi dato questa possibilità di ritornare al premio Lucerdalla, sono felicissimo. E anche io sono contento, siamo contenti tutti di rivederti dopo anche la tua esibizione alla vetrina di premio Lucerdalla a Sanremo lo scorso febbraio e oggi, anzi, si dice qualcosa? Ho visto qualche articolo sulla stampa in quest'ultimo periodo. Sì, ogni tanto sta uscendo qualche articolo, anche nel mio paese sono molto contento di quello che sto facendo, sto proseguendo un buon percorso musicale. E quindi un grande orgoglio perché porti il nome di Ardauli in tutta Italia, nel web e sulla stampa. Stasera cosa ci presenti Luca? Allora, presento il saltarello marchigiano, il fantafalzer, il brano composto da me, e un ballo campiranese che è uno dei balli più conosciuti in Sardegna, dove suono anch'io nelle piazze in Sardegna. Quindi un bel midley di organetto. Va bene. Luca Cocco! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!